Buongiorno a tutti, nella box del divertendo di oggi vi presentiamo polpo costa a passatemperatura con spinacino in agrodolce, mandorle uvetta e salsa barbecue. Prendiamo una padella antiaderente ben calda, mettiamo un filo d'olio e il nostro polpo un po' distanziato un pezzo dall'altro. Ovviamente è già fatto, dovrà soltanto fare una piccola crosticina. Tra i scorsi 2-3 minuti potete iniziare a girare, come vedete questa è la crosticina che deve fare. Quindi vedete un pezzettino alla volta e lo girate e fate la stessa cosa, aspettate altri 2-3 minuti. Intanto scaldiamo i nostri spinaci che sono già stati ripassati da noi, quindi andiamo a scaldarli 30 secondi al microonde. Scaldiamo i nostri spinaci, saranno sufficienti 30 secondi e sono pronti. A questo punto il polpo è pronto, possiamo andare a impiattare. e stiamo mettendo i nostri spinaci in questo modo. coprite tutti i spazi e adesso non rimane che mettere la salsa barbecue. il piatto è pronto.